Allora, come dicevamo, al netto dei problemi tecnici per cui le date degli esami sono un po' visibili, un po' no, lavoriamo su queste date che sono il primo appello che dovrebbe essere 2606 e il secondo appello che dovrebbe essere il 1407. Ok? Non parliamo di settembre perché settembre io ho ancora una vaga, vaga, anche se limitassissima speranza di poter fare esami in laboratorio in qualche modo. Allora, le avvertenze che volevo darvi è sicuramente non fate caso agli orari. Sul portale hanno pubblicato certi orari, tipo alle ore 8 per il 26 giugno e alle ore 14 per il 14 luglio. Non ci vanno bene questi orari, non saranno sufficienti perché dovremmo fare più turni. Quindi faremo più turni nella giornata. Allora, come compi, così com'è, c'era già anche scritto nelle regole d'esame. Allora, cosa succede? Che alla chiusura delle iscrizioni, che a questo punto dovrebbe essere prevista per il 22 giugno, fate attenzione perché sono quattro giorni prima, per il primo appello, la scadenza del 22 giugno, vai via che non mi servi, e quindi fate attenzione a prenotarvi per tempo. Noi faremo, diciamo così, definiremo i gruppi e i turni, quindi. Quindi saranno molto probabilmente, saranno sei gruppi divisi in due turni. Quindi saranno probabilmente tre gruppi al mattino e tre gruppi al pomeriggio. Dico mattino-pomeriggio in modo molto generico perché le ore specifiche dobbiamo ancora definirle. Può esserci la possibilità, dipende un attimo da quanti sarete a prenotarvi, che dovremmo fare tre turni. Quindi mattino-presto, cavallo-pranzo, e al pomeriggio, qualcosa di questo genere, se ci fossero molti prenotati. Io questo posso tenere d'occhio le prenotazioni, chiaramente, man mano che arrivano, posto che ricompaiono questi esami, sul portale, ma fino a quando non si chiudono le prenotazioni, il 22 giugno, non riesco a dirvelo, chiaramente. Non riesco a essere certo. Ovviamente è importante per noi, ma anche per voi, che chi si prenota sia convinto di venire dall'esame. non si dimentichi sicuramente di prenotarsi, ma poi che sia convinto di venire dall'esame. Quindi va benissimo se vi prenotate oggi, se avete anche solo una mezza intenzione di dare l'esame. Però quando saremo più a ridosso, tra un mese, meno di un mese, quando saremo più a ridosso l'esame, se per caso decidete, per mille motivi, che non lo date al primo appello, per favore togliete la prenotazione, così noi abbiamo i numeri più giusti possibili. E così riusciamo anche a minimizzare il tempo e il disagio per tutti voi. Ho già ricevuto alcune segnalazioni che alcuni hanno una sovrapposizione con altri esami nello stesso giorno. Quindi chi avesse sovrapposizione con altri esami nello stesso giorno, chiaramente non sono esami del terzo anno, perché su questo la commissione dovrebbe aver lavorato bene, mi pare, e non ha messo sovrapposizione. Possono essere esami che avete indietro del secondo anno, esami a scelta, altre cose, e va bene, questo può capitare. Nello stesso giorno. Allora noi possiamo giocare sui turni. Quindi magari voi dite io c'ho l'altro esame, ce l'ho al pomeriggio, allora ti faccio passare la mattina e viceversa. Quindi lo devi segnalare alla chiusura delle prenotazioni. Quindi mi mandate il mail, una mail il 22 giugno, così io quando vado a scaricare l'elenco dei prenotati e faccio i gruppi, ho le vostre mail 3 o 4 di tizio che mi dice guarda che io ho quell'esame e quell'esame si svolge a quell'ora. Allora io cercherò di fare in modo di spostarvi avanti e indietro nei vari gruppi in modo possibilmente da non creare troppe sovrapposizioni. Purtroppo non vi posso diminuire lo stress di fare due esami nello stesso giorno, ma perlomeno cercare di renderlo fattibile giocando il più possibile con gli orari. Gli altri anni siamo sempre riusciti con questa flessibilità ad accontentare quasi tutti. Non mandatemi mail troppo prima perché tanto poi rischio poi di perdere, dimenticarmelo, perché tanto io questo lavoro come dicevo lo posso fare solamente dopo che avrò le prenotazioni definitive. Allora a questo punto in quei giorni lì mi metto lì e faccio questo lavoro con le mail che sono arrivate in quel giorno e me lo segnalate. e poi vi ricordo quindi le simulazioni d'esame che si svolgeranno abbiamo già detto tante volte gli ultimi due settimane del corso quindi noi questa settimana dicesi anche domani abbiamo già abbiamo l'ultimo laboratorio con l'ultima simulazione e poi il 3 giugno e il 10 giugno abbiamo queste simulazioni d'esame. L'orario sarà leggermente diverso pensiamo di fare 9.30 in cui facciamo una parte iniziale alle 9.30 ci colleghiamo e impostiamo il tutto e poi intorno alle 10 giù di lì parte il tempo dell'esame dalle 10 alle 12 e poi abbiamo ancora un pochino di margine di tempo per gestire la consegna. Io cercherò di preparare un tema d'esame più simile possibile a quello che potrebbe essere un esame reale e anche le procedure simuleremo quello dell'esame. Ok? Quindi faccio finta di controllare i documenti facciamo il check di connettività della telecamera eccetera eccetera quindi vi ricordo che voi dovete avere per l'esame avere sicuramente l'account Github per poter consegnare il compito perché verrà consegnato attraverso verrà gestito attraverso quella piattaforma che si chiama Github Classroom a Github Classroom si accede con l'account Github normale è quello che avete usato normalmente durante l'anno ok? Però se ci fosse qualcuno sparuto che non l'ha ancora fatto o non si ricorda la password questo è fondamentale ad averlo altrimenti non si riesce a fare l'esame quindi mettiamo così i prerequisiti saranno questi poi come secondo prerequisito ci sarà ovviamente il PC con Eclipse e tutto PC o Mac quello che sia insomma Linux quello che volete con Eclipse e tutto tutto il software necessario quello con cui normalmente lavorate e poi useremo Zoom per la videosorveglianza quindi dovete predisporvi in modo da avere la videocamera accesa più condivisione del desktop allora ovviamente durante le simulazioni d'esame io non sto lì a controllare se vi alzate a prendere il caffè o chiacchierate con l'amico o anche se sul desktop avete aperto altre cose quindi diciamo un controllo fittizio lo facciamo per voi lo facciamo per noi e per voi uno per testare gli strumenti quindi se ci sono dei problemi lo scopriamo il 3 giugno non il 26 giugno sono in fase di inserire di esame quindi voi vedete se il vostro computer funziona la condivisione del desktop che teoricamente funziona bene da dei problemi eccetera eccetera quindi cerchiamo di mantenere diciamo così anche la rete se regge tutti in condizioni più simili possibili all'esame ok quindi vi chiederò proprio di tenere accesa la videocamera di tenere il desktop condiviso anche se nel frattempo giocate a campo minato però in quel momento li facciamo finta di fare l'esame ok e poi alla fine vabbè lavorerete tranquillamente direi che non ci sono particolari altre esigenze dal punto di vista ok questo qui per quanto riguarda la consegna dopodiché ci sarà la consegna via GitHub Classroom al termine del tempo e anche lì proviamo a consegnare così poi vediamo vedete qual è il processo ci sono i vari passaggi da fare in modo da essere già tranquilli per fortuna è un push quindi non c'è nulla di strano non dobbiamo aprire piattaforme strane exam respondus mia sorella varia ma semplicemente farete un push attraverso nei repository che automaticamente vi viene creato all'inizio dell'esame quindi questo è molto semplice e noi vedremo direttamente in un pannello chi ha chi ha consegnato attraverso questo push ovviamente è suggerito anche per evitare problemi di rete nell'ultimo momento fare anche dei commit e dei push intermedi non c'è problema ovviamente è nel vostro interesse farlo quello che noi andiamo a vedere ovviamente è l'ultimo push fatto dentro orario di chiusura dell'esame e poi in realtà diciamo così la prova orale non la facciamo non sarà fatta ovviamente in simulazione però possiamo fare una piccola prova in ogni caso perché saranno richiesti anche i microfoni da parte vostra quindi dovremo ovviamente parlare all'orale dovete rispondere quindi non facciamo l'esame viacciato ovviamente ok quindi vi predisponete l'attrezzatura che vi serve essenzialmente il vario software spero che la rete tenga e speriamo tutti che la rete tenga e appunto webcam microfono per poter fare la cosa noi il microfono lo useremo all'inizio quando facciamo diciamo così un simile appello e poi eventualmente possiamo fare verso la fine fare una simulazione di orale ok direi che non c'è nulla di particolare poi eventualmente se c'è qualche dettaglio che adesso ci sfugge le simulazioni servono proprio per questo quindi per valutarci nei tempi e nelle nelle meccaniche io spero che al di là del setup iniziale in cui c'è l'appello in qualche modo c'è la distribuzione del progetto poi per due ore voi lavorate tranquilli al vostro progetto c'è la telecamera accesa c'è il desktop condiviso ma a voi non interessa nel senso che voi lavorate tranquillamente al vostro progetto come fareste normalmente sia in un esame oppure come fareste normalmente in una situazione di laboratorio quindi diciamo così la videosorveglianza non dovrebbe interferire col vostro modo di lavorare ok e poi c'è solo quel momento delicato della consegna essenzialmente che appunto per quello soprattutto dobbiamo provarlo prima nella simulazione d'esame saremo in gruppi più numerosi cioè noi siamo in tre diciamo così a sorvegliare diciamo io Alberto e Tatiana faremo chiaramente un blocco unico dalle 9.30 alle 12.30 e quindi magari ci saranno dei classi tra virgolette di più persone quindi mentre all'esame faremo gruppi di massimo 25 per poter diciamo riuscire a osservarli anche nella griglia delle webcam nel invece nel laboratorio nella simulazione anche se i gruppi sono più grandi non è un grosso problema ok quindi in qualche modo stiamo testando il sistema con uno stress maggiore rispetto a quello che ci sarà all'esame questo anche per essere più conservativi se vedete delle criticità in tutto questo meccanismo parliamone cerchiamo di farcelo capire abbiamo appunto ancora un mese di tempo per poter provare e due simulazioni d'esame in cui simuliamo appunto sia la difficoltà d'esame che gli strumenti tecnici io spero io più di così non so cosa fare essenzialmente però se voi avete in mente delle cose me lo potete tranquillamente suggerire so che in questi giorni c'è un astio molto forte tra gli studenti e tra gli studenti del Politecnico io cercherei vi chiederei di non trasformare quello che è un sentimento generale in un impedimento specifico cioè noi adesso pensiamo a un esame cerchiamo di farlo bene cerchiamo di trovare le modalità migliori se poi intorno a noi succede una cosa strana prendiamole una per volta cerchiamo di di aggiustarlo in certo senso se posso permettermi un pensiero personale io vedo molte folle trascinate sono alcune persone che hanno degli interessi a fomentare e purtroppo ci sono effettivamente dei problemi che ci sono stati ci sono dei docenti e magari anche dei responsabili che hanno in qualche modo non dico negato ma minimizzati questi problemi che in realtà non sono assolutamente eliminizzare ma da affrontare quindi c'è stata sicuramente una sottovalutazione del problema ma dall'altro canto c'è sicuramente un cavalcare l'onda da parte di chi ha interessi che non sono solamente quello dell'esame ma magari anche quello di acquisire visibilità ecco io non parlo di altro qua perché stiamo facendo lezione non stiamo facendo politica però facciamo attenzione a non perdere di vista il cercare di far funzionare le cose e portarci a casa questo percorso di studi nel modo migliore possibile ok fine della parentesi scusate ma visto che stiamo appunto il tema è molto caldo con degli esami stiamo proprio parlando di questi mi sembrava giusto cercare non è facile ma cercare di parzializzare diciamo così vari tipi di ragionamenti e se ne sarebbero ben separati direi che al momento non mi vengono in mente altri dettagli e quindi lascerei a voi la parola se avete innanzitutto delle osservazioni sull'esame delle richieste specifiche delle difficoltà a cui non ho pensato e poi ovviamente anche parlando degli argomenti il programma del corso è finito questo penso sia chiaro per tutti quindi adesso faremo solamente più quattro lezioni due io e due Alberto che nei quali risolveremo risolveremo altrettanti quattro temi d'esame quindi tutto ciò che dovete sapere già diciamo così è stato fatto allora vedo una domanda di Valeria che ha la coppio qui che mi chiede se sono disponibili le soluzioni degli esami passati allora noi abbiamo allora la risposta breve è no non in modo sistematico nel senso che solitamente non forniamo una soluzione per l'esame una soluzione di riferimento per il solito motivo che un certo progetto si può fare in mille modi diversi e io ritengo abbastanza controproducente guidarvi troppo del tipo guarda che la soluzione andava fatta così perché poi magari voi la fate in modo diverso la confrontate con la nostra che magari non ho detto che sia migliore anzi non c'è motivo per cui debba essere per forza migliore e allora cercate di avvicinarvi alla nostra mentre invece è più giusto che voi seguiate il vostro ragionamento quindi io su questo sul fornire le soluzioni soprattutto di un esercizio di programmazione di progettazione sono molto in imbarazzo quello che invece facciamo è li risolviamo insieme allora se voi andate a cercare nelle video lezioni degli anni precedenti che sono tutti su YouTube vedete che nelle ultime settimane abbiamo fatto ciò che stiamo facendo o ciò che faremo in questo corso cioè le ultime due settimane sono risoluzione quasi sempre dei temi di esame dell'anno precedente allora questo poi avrà di solito un reposito di GitHub che è dentro il reposito di quell'anno quindi sarà dentro TDP 2019 TDP 2018 eccetera eccetera e quindi vi trovate la video lezione in cui viene risolto il compito e quindi non solamente trovate diciamo così il codice ma il ragionamento perché avere il codice senza il ragionamento che si sta dietro per scegliere una soluzione piuttosto che un'altra a me pare inutile ok allora io semplicemente non l'abbiamo in modo ordinato e organizzato però appunto se andate a prendere le ultime video lezioni degli ultimi due anni diciamo vi trovate tutti i temi di esame praticamente tutti risolti in video e con il link al repository non sono nel repository TDP esami organizzati proprio perché come mi ripeto ancora una volta avere la soluzione senza avere il procedimento di risoluzione non 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 mi piace guardate quello e non vedete il resto e allora o non capite o cercate di io c'è una cosa che cerco sempre di combattere con voi gestionali che un po' deriva anche dall'impostazione dell'ingegnere gestionale delle materie che studiate voi tendete a lavorare molto per l'analogia in questa situazione A si fa questa la soluzione si fa così in quest'altra soluzione B allora si procede in questo altro metodo eccetera eccetera che va bene ma nel nostro caso nel caso dell'informatica spesso non si applica va ragionato di caso in caso e non si può applicare sempre dello schematismo allora io quando vedo che voi cercate di incasellare le cose in un modo così troppo che per noi è troppo semplificato cerco sempre di bloccarvi e darvi le soluzioni rischia di andare in quella direzione quindi ci sono ma vi dovete tra virgolette beccare anche il video ok poi invece ah questo è un messaggio Simona credo che tu mi avviate già anche scritto su Telegram immagino ma credo di non averti risposto che però non è un problema allora aspetta che salvo questa immagine e cerco di condividerla allora Heidi ha questa brutta abitudine di non è colpa di Heidi è semplicemente la procedura di importazione e esportazione di SQL e praticamente sempre quando noi importiamo qualche cosa alla fine ci dà questo errore perché per come diciamo così MariaDB MySQL memorizza internamente le tabelle ci sono delle opzioni che però poi quando tu le esporti in SQL queste qui non possono essere rilette senza entrare nel dettaglio quindi questa qui di qua questo avviso c'è sempre o almeno io lo vedo sempre però non vuol dire che i dati non siano importati cioè da questo warning va bene ma poi se vai a vedere le tabelle se vai a vedere i dati nelle tabelle normalmente ci sono tutti quindi se invece tu mi dici che veramente i dati non ci sono indipendentemente da questo messaggio di errore allora cerchiamo di capire perché non carica tutte le tabelle purtroppo può voler di due core vuol dire che ci sono alcune tabelle che proprio non vengono caricate oppure le tabelle non vengono caricate tutte cioè ti sembra che ne manchi un pezzo i dati ci sono su Porsche ma non mi ci fa lavorare cioè cosa vuol dire non mi ci fa lavorare se vuoi prendere il microfono parliamo più una semplice qui allora avresti voglia in questo momento di condividere lo schermo e farci vedere qual è il problema così lo risolviamo insieme mi sento? sì ok mi può abilitare la condivisione dello schermo per favore? ah pensavo forse già allora vado a cercarla sicuramente allora disegno aspetta che la trovo allora astus tarvi ma in teoria dovresti già poterlo fare ok prova un po' c'è il tasto share vi dice devo prima stopparla mia mi sa no non va continua a funzionare solitamente se clicca sulla peccina verso l'alto di share screen ci sono varie opzioni e ci dovrebbe essere un'opzione in cui dice che si può condividere quella però sui aspetta ho il participant l'ho trovata scusami pensavo io l'ho già messo ok adesso va ok può anche che sia una versione corrotta del database ecco ok perfetto allora la tabella è riempita perché mi dà 2022 righe sì però se ad esempio faccio un aspetti che non so il person ID è meglio mi dice questo lei ha ragione perché effettivamente questo è un errore che mi capita con tutti i database però con questo non mi sta proprio funzionando con la tabella cioè se poi lavoro su altre tabelle del database mi funziona cioè su food funziona sì ed è un problema che ha avuto anche un altro ragazzo con il stesso database anche con i io vedo che Umberto ha scritto che ha lo stesso problema anche lui allora questo qua verifichiamo perché allora select portion ID from portion è il from portion che non gli piace esatto perché se adesso provo from food ad esempio che è sempre del database in novembre sì che c'è in questo food code che mi ricordo food code ok lo faccio vedere va funziona adesso una tabella va bene allora lo vado a verificare e vi daremo una versione direi questo appunto aggiornata del database è possibile che va bene grazie mille grazie gentilissimo ci mancherebbe allora mi riprendo lo schermo e vado a ripescare a questo punto la domanda di Gaia che mi chiede come calco il valore del flusso in uscita per cui confrontarlo con fmin allora questo andiamo a leggere il scusatemi il testo sul laboratorio 11 allora c'è ancora la figurina no qua allora qui noi abbiamo questo questo serbatoio qui in cui ogni giorno so che entra una determinata quantità di acqua una certa quantità di litri e quindi la capacità occupata rispetto alla capienza totale del serbatoio può aumentare o diminuire ok fout vediamo dove è descritto dovrebbe essere allora valore medio dove è andato allora un secondo lo trovo nel testo di fatto fout non è una costante eccolo qua nel punto c punto 2c il bacino dovrà garantire un flusso di uscita pari almeno fout minimo ogni giorno dell'anno gli scopi di simulazione si assuma che fout minimo uguale 0,8 di fout medio ok vuol dire che questo bacino lui ha un flusso di uscita che in condizione di progetto cioè noi cerchiamo di fare in modo che sia uguale a questo fout minimo e quindi vuol dire che ogni giorno lui deve essere in grado di erogare in uscita una certa quantità di metri cubi d'acqua o litri dipende poche unità di misura volete usare ok quindi noi impostiamo il flusso di uscita uguale a questo valore che è il valore minimo che è definito da questa formula dopodiché non è detto che la simulazione riesca effettivamente a erogare tutte le volte questo valore perché magari ci sarà un certo giorno in cui il bacino si svuota allora per questo sono due quantità diverse fout minimo è l'obiettivo che voglio raggiungere fout invece è l'effettivo flusso in uscita allora diciamo così il gestione la gestione del bacino non ha nessun interesse a fare uscire in fout più del minimo necessario sprecare acqua farne uscire il bacino dovrà garantire quello che mi chiedono come progettista del bacino un flusso d'uscita pari almeno al minimo allora io ti do esattamente il minimo non è che te ne do di più se mi chiedi quello io ti do quello quindi l'fout che io sto simulando faccio in modo che ad ogni giorno ne esca fout minimo quando posso perché può darsi che in un determinato giorno la capienza residua del bacino non mi permetta di erogare quella quantità d'acqua e allora questo è il momento in cui il numero di giorni in cui non si è potuta garantire l'erogazione minima allora ovviamente se il mio fout fosse di metto un numero a caso 100 e io riesco a garantirmi solamente 80 vabbè ovviamente del bacino vado a sottare 80 non sottrago 100 quindi il flusso d'uscita sarebbe una costante per tutti i giorni dell'anno se il bacino fosse in grado di garantirla sempre a volte però questa costante è un pochino più bassa e allora devo fare attenzione a non sottrarre ogni giorno sempre il valore della costante ma sottrarre il valore effettivo che riesco a derogare ok quindi praticamente per rispondere seccamente in modo diretto alla tua domanda come faccio a calcolarlo fout uguale fout min se posso se no sarà quanto posso quindi la capienza rimanente diviso l'unità di tempo ok riccardo mi scrive non ho capito a proposito di cosa la funzione poll scansiona ogni volta tutti gli elementi per trovare il primo in base al compare to in una lista prioritaria no in una lista prioritaria la funzione poll guarda solamente il primo elemento in una cosa prioritaria non va a guardare nessun elemento oltre il primo la cosa prioritaria ricordiamoci memorizza i dati in una sorta di albero in cui nella radice di quest'albero c'è sempre il minimo e quindi poll non fa altro che andare a vedere quel nodo lì poi riaggiusta gli altri per mantenere l'ordinamento in un certo senso ma questo non ci interessa quindi il lavoro di trovare il primo in base al compare to lo faccio in fase di inserimento è l'add che lo mette nel posto giusto e li sistema gli elementi in modo che quando faccio poll il primo che trova quindi l'elemento diciamo in posizione 0 se fosse un array ma non è un array quindi non posso prenderli per ordine 0,1,2,3 è già pronto quindi non va a fare nessuna scansione ok l'altra cosa siamo così che emerge da queste due domande è che però il compare to e l'ordine degli eventi sono la stessa cosa ok cioè se io il comparatore degli eventi della code prioritaria degli eventi l'ho imposto in modo che vada a fare a definire il maggiore o minore in funzione del tempo quindi anche per assurdo non conoscessi le code prioritarie e mettessi gli eventi tranquillamente in una lista e dicessi ok adesso vado a cercare nella lista col comparatore quello che ha il tempo minimo funzionerebbe lo stesso sarebbe meno efficiente ovviamente ma funzionerebbe lo stesso perché l'ordine degli eventi uguale per definizione a quello che ha il tempo minore in base al compare to io non so se c'è un dubbio nascosto la lista ordinarli sì 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 il fatto che sia è una lista è una priorità più infatti la coda degli eventi la definiamo dentro una coda priorità più che ha proprio questa di eventi che ha proprio questa caratteristica che ogni volta che aggiungo un elemento lui lo aggiunge nel posto giusto che sa lui quindi non posso sapere in che ordine lo mette ma quando lo estrago mi estrae sempre il minimo è il vantaggio di questa struttura dati non è è una coda che non viaggia first in first out cioè non è che il primo il più vecchio che c'è dentro non fa uscire per primi coloro che sono arrivati per primi fa uscire per primi coloro che hanno una priorità maggiore e la priorità la decide con per tu fa tutto lei se io definisco bene il comparatore fa tutto lei non so se avete visto l'esercito che abbiamo fatto sulla simulazione emergency dove abbiamo usato un'altra priorità per gestire la lista d'attesa dove lì il criterio era più complicato perché si basava sul codice colore sul tempo d'arrivo eccetera però l'unica fatica che abbiamo fatto era definire un compar tu tutto il resto l'ha fatto la priorità in cui aggiungevo buttavo dentro pazienti li strevo quando volevo anche lì in quel caso non c'entravano non erano eventi ma erano diciamo così oggetti normali però ogni volta che avete bisogno di questa funzionalità project queue di fatto fa tutto per voi se definite correttamente il comparatore mi ricordate solo parlando prima del food pyramid perché così voglio essere sicuro di prendere esattamente quello su cui avete problemi era nel laboratorio numero 9 giusto quello prendo esattamente da lì e provo a importarmelo per la prima volta che si tratta di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio su un'esercizio di un'esercizio se%r'ca esame, ok, 2019, 03, 19, ok, allora prendo in tempo di più esami, 2019, 03, 09, questo qua, 09, 03, 0203, lulli, 0203, 3 settembre, questo qui, ok, Eccolo lì. Perfetto. Allora andiamo a vedere cosa ci fa di male. Nel frattempo se avete altre domande, bene, altrimenti mi approfitto delle pause per cercare di risolvere questo dubbio. Grazie. Grazie. Allora, visto che ci sono i messaggi su un urgency, quindi probabilmente avrò un baco. Adesso lo vediamo. No, dov'è che lo metto? Vabbè, scusate, c'è qua. Non perdo troppo tempo a trovare la cartella giusta. Allora. Database, food pyramid, eccolo qua. E quindi noi possiamo, questo qui. Allora, ci abbiamo in questa cartella. Poi qui ci abbiamo ID. Ci colleghiamo. Carica file SQL da qua. Allora, vediamo quest'errore, me lo aspettavo. Vediamo se ci sono altri tipi di errori. Nulla di diverso da questi. Quindi, a questo punto prendiamo food pyramid, portion. Select from portion. Prendiamo portion. Portion ID che è qua Allora, scusate non l'avevo notato subito evidentemente Portion è una parola chiave del linguaggio SQL e quindi lui si arrabbia perché la vede come identificativo, quindi se voi la includete in questi apici al contrario che di fatto lo rendono identificatore che gli permette di mettere anche delle parole riservate o degli spazi eccetera anche se non è consigliato come nome di colonne o come nome di tabelle funziona quindi il problema era questo non ho fatto caso subito che Portion poteva essere cioè che l'errore poteva dire quello non so cosa voglia dire Portion in SQL lo scopriamo insieme non la vedo lista di parola riservate guardiamo un po' qui non c'è però il sospetto è che Portion venisse interpretata come una parola chiave e quindi non interpretata come nomine di tabella la soluzione è appunto mettere questi agli apici rovesci ricordate che questi qua sulla tastiera italiana non ci sono e quindi li andate a prendere secondo me mi sembra se così 96 alte 096 per poterli digitare quindi abbiamo risolto il mistero cioè parzialmente nel senso che siamo riusciti a evitare l'errore non abbiamo ancora capito almeno io non ho ancora capito del tutto che cosa indicasse questa parola chiave Portion è anche possibile che sia una cosa di versioni recenti di SQL perché appunto un anno fa quando abbiamo dato questo tema d'esame non abbiamo riscontrato nessun problema del genere quindi può darsi che sia qualche parola chiave che è stata introdotta recentemente comunque con questo direi che funziona 2014 righe è pari 2022 righe totali circa se fossero coincidere questi questi valori potrebbe essere corretto ok quindi abbiamo risolto anche questo mistero altri misteri da risolvere ci vengono invece portati da Enrico che mi dice che ho sbagliato a risolvere emergency e non c'è nulla di più probabile e quindi andiamo a prenderlo nel frattempo rispondo Leandro durante l'esame si possono usare delle cuffie dipende da cosa ci fai essenzialmente diciamo che se tu le usi per concentrarti per isolare i rumori eccetera non ci vedo nulla di male se tu le usi per ascoltare qualcuno che ti parla nell'orecchio e ti racconta che devi fare ecco mi piace un pochino meno e purtroppo a differenza del desktop che posso chiedervi di condividerlo non posso chiedervi invece non posso capire cosa state ascoltando in cuffia quindi io sarei per dire se c'è una ragione legittima cerchiamo di garantirlo però come faccio io a sapere cosa state ascoltando se è una questione di silenzio mettetevi i tappi di cera così non ci sono per isolarvi dei rumori che è perfettamente legittimo per concentrarsi però magari appunto usate dei tappi non delle cuffie così non create diciamo così sospetto ecco non so se era questo il motivo per cui volevo usare le cuffie allora nel frattempo Eclipse in teoria dove è andato a finire ecco eccolo qua allora ero in emergency e tu mi dici se io metto i dati prendiamolo qua dal test simulator tu mi dici pazienti 150 ok studi medici 2 questo qui dunque tasso d'arrivo di 5 ok vediamo cosa mi dice bla 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 2 pazienti 144 rimessi 55 abbandono 49 allora i numeri sono diversi tu quante cosa avevi indicato come tempo di arrivo 5 come era nel testo delle slide oppure 3 come avevo io nella simulazione chiedo a Umberto 3 ma in ogni caso il problema rimane ok allora vediamo 150 quindi sono dimessi 38 più 96 morte più 49 abbandonano giustamente sono troppi e quindi stiamo contando lo stesso paziente più volte da qualche parte quindi di sicuro c'è un baco da qualche parte dunque pazienti tot quando arrivano li conto ma questo qui quadra perché perché 150 è ciò che ci piace il dimessi li dovrei conteggiare quando esce dallo studio medico quindi il treated pazienti dimessi più più ok e direi che non c'è nessun altro punto in cui viene usato lo metto a zero lo incremento in treated e basta perfetto poi invece abbiamo i pazienti pazienti morti allora lo incremento sul timeout di un rosso allora credo che ci sia un problema qua nel senso che io ho questi timeout che vengono schedulati fino a quando il paziente è dentro la lista è dentro la cioè quando il paziente entra nella sala d'attesa poi magari questo paziente va a fare altre cose tipo viene curato va a casa eccetera eccetera e quando il paziente viene spostato il timeout non viene cancellato rimane nella coda degli eventi quindi magari questo paziente è già stato curato è già andato a casa oppure nello studio medico è in cura e nel frattempo il timeout sta ancora sta ancora attichettando quindi a un certo punto magari il paziente io infatti avevo già messo questo codice colore out in più che non avevamo nella video lezione perché mi sono accorto che che venivano siamo contati due volte essenzialmente i pazienti morti e cose di questo genere o i pazienti invece curati e allora ho detto vabbè se tu sei già out se ti scatta il timeout vuol dire che in realtà tu sei già stato curato e quindi non lo non ti non ti calcolo più ok in realtà non l'out lo mettevo quando lui moriva e quando lui veniva curato treated vedete che è qua paziente se tu colici colore però questo paziente attesa.add qua q.add esci dalla lista d'attesa paz e il paziente dell'evento allora forse lo posso modificare qua vediamo un attimo perché io ho il paz paziente lo sto estraendo dalla coda degli eventi ricordiamoci che paziente era definito qua get paziente dall'evento ok questo ovviamente quando l'ho messo in timeout era in lista d'attesa perché il timeout l'ho impostato esattamente quando lui entrava in lista d'attesa quindi sicuro c'era però quando l'evento viene processato può darsi che lui non ci fosse più allora potrei verificare se visto che qui ho un remove tolgo l'oggetto lui mi restituisce true if and only if this queue content specified element ok quindi questo remove mi può restituire vero o falso vero vuol dire sì l'ho trovato e l'ho cancellato falso invece vuol dire no non l'ho trovato allora adesso provo sto cercando di completare il ragionamento se mi arriva un timeout su un paziente che non è più in lista d'attesa allora non devo processarlo è un evento perso cioè un evento che avevo schedulato per un paziente però adesso non ne ha più bisogno questo paziente in questo momento quindi probabilmente posso fare una cosa migliore anziché andare a controllare il colore che in realtà l'ho imposto solamente troppo tardi e non mentre i pazienti sono in cura potrei chiedere se quindi boolean facciamo due passaggi era presente uguale remove quindi era presente in lista d'attesa se non era presente esco esco da questo break intermedio quindi vuol dire che ignoro gli eventi che in relativi a pazienti che in questo momento nel momento in cui viene lavorato il timeout ormai per altri motivi sono già magari stati chiamati negli studi vediamo un po' se migliora la cosa rifacciamo un run allora 38 più 65 più 47 8 e 5 13 e 7 20 22 più 35 5 e 6 11 e 4 15 quindi o è un colpo di fortuna o era quello l'errore quindi era un errore che io ho già fatto nel nel completare nello svolgere l'esercizio in classe in classe di formazione professionale durante il video me ne ero accorto quando poi diciamo così ho completato il progetto per la per la pubblicazione online e l'avevo corretto ma l'avevo corretto male avevo fatto questo errore e quindi il controllo che facevo per dire devo ignorare questo evento perché non mi serve più non è più attuale perché quel paziente nel frattempo è andato fuori in realtà non era un controllo completo perché andava solamente a prendere a ignorare alcuni eventi ma a trattarne altri per cui succedeva che il paziente dopo che era stato curato quindi lo contato come curato lo conto anche come morto infatti era il numero di morti che era molto alto e tra l'altro era un po' sospettoso perché non cambiava facilmente quel numero di morti quindi adesso abbiamo messo un controllo più corretto e questo è il problema di perdere il futuro quando io schedulo un evento per il futuro devo essere sicuro che quando l'evento si verificherà avrà ancora senso che si verifichi e in questo caso non era così nel senso che non aveva senso che si verificasse perché era è stato a quel paziente era successo altre cose e quindi non serviva più quel time out l'altra alternativa possibile è quella di cancellare il time out però è più pesante da questo punto di vista perché io dovrei andare nella coda degli eventi scandire la coda degli eventi cancellare la coda degli eventi tutti gli eventi che sono relativi a quel paziente però questo non c'è nulla che sia una scansione lineare che mi possa aiutare a fare poi voi sapete che non potete fare il rimuo di un elemento di una lista se la state iterando e quindi diventa abbastanza complicato oltre che poco efficiente perché scandire la lista una volta e poi estrarre l'elemento ha una complessità o di n due volte quindi ci costa molto meno dire vabbè quell'evento è lì semplicemente quando scatta faccio attenzione perché potrebbe non servire più buttarlo via ecco sul faccio attenzione ho sbagliato quindi questo qua grazie per la segnalazione questo dovrebbe essere se proviamo anche con altri valori dovrebbe quadrare devo mettere il 5 salvo e vediamo un po' cosa mi viene 55 3 8 8 8 e 6 14 quindi farò 60 6 6 4 10 14 esatto sono 144 e 50 perché 3 non è multiplo del tempo quindi alcuni eventi non vengono inseriti per ragione di approssimazione del 3 ma del numero di minuti non ci stanno nelle ore di apertura ok va bene quindi abbiamo risolto anche per fortuna questo problema mi ricordiamo di fare commit così rimane sul sito c'è ancora un'altra richiesta di Matteo che è un po' preoccupato per l'esame allora questa no sicuramente questa di emergency è un esercizio in cui c'è solo la simulazione ed è sicuramente più complessa rispetto alle simulazioni che trovate nell'esame nei temi di esame tendono a essere molto più ovviamente questi sono esercizi pensati per un laboratorio di 3 ore ok simile io come avete visto nel video l'ho risolto in circa 2 ore questo esercizio chiacchierando spiegando blatterando nel frattempo quindi se uno fosse concentrato ce la fa in meno di 2 ore chiaro che sarebbe molto tirato ma se ci fosse solo questo esercizio il tipo di simulazione che vi diamo all'esame è più semplice ma anche perché si basa su tutte le strutture dati che avete già nel primo punto vi facciamo creare il grafo vi facciamo creare delle liste delle strutture dati che poi nella simulazione vi trovate già pronti per poter usare per cui quello che io noto è che molto spesso per chi riesce a fare l'esercizio completo all'esame i due terzi forse anche più del tempo le mette sul primo esercizio ma perché lì ci sono tante piccole cose da fare e devo farmi il DAO e devo farla query e devo verificare collegare il controller eccetera e sono cose magari facili ma tutto sommato però portano via del tempo e nel frattempo mi vado a costruire il mio grafo le mie array list le mie ID map eccetera eccetera perché mi servono per risolvere il punto 1 quando passo al punto 2 che sia una ricorsione che sia una simulazione alla fine mi devo solo più concentrare su quelle poche righe di codice nel caso della ricorsione sappiamo che la procedura ricorsiva di solito è abbastanza compatta ciò che magari porta via pochino più di tempo è la valutazione della soluzione finale idem per la simulazione il codice della simulazione è molto compatto basta definire un po' di variabili e poi c'è magari la process event se ci sono tanti tipi di eventi può essere un pochino lunga ma la complessità della simulazione che diamo all'esame è più piccola quindi quello che ci trova è che quando uno finisce il punto 1 finisce il primo esercizio non è a metà ma rischia di essere all'80% del codice che deve scrivere è chiaro che il 20% che gli manca è di un livello di difficoltà leggermente superiore però non quindi da un lato vi rassicuro le simulazioni che trovate all'esame sono più semplici di questa questa qua è un'esercizio ma anche quella del bacino idroelettrico che poi in realtà è semplice però è un pochino complicato da capire però volevo farmi una proposta perché era carino vedere proprio un sistema fisico che cerchiamo di simulare in modo molto approssimato con questa simulazione dei eventi e non con equazioni differenziali e con dati reali di piovosità in quel caso dopodiché non sto dicendo che due ore siano tante per l'esame perché si si arrivava senza tirati ovviamente facendo tutto quando verranno pubblicate le soluzioni del laboratorio 10 devo ancora iniziarla quindi direi se va bene entro la fine di questa settimana una domanda esistenziale da parte di Sonia che mi dice che ha installato Respondus e ha notato una serie di problemi subito dopo e questo l'ho visto anch'io io non ho mai installato Respondus perché ci tengo il mio computer ho sentito questa lamentela da diversi altri studenti sì no infatti cercherò non lo faccio installare a voi e non lo installo io quindi facciamo questo patto di ferro e ho sentito altri studenti che hanno avuto questi problemi che soprattutto se uno iniziava un esame una simulazione d'esame poi questa si bloccava a metà o si interrompeva per qualche motivo quel maledetto virus di lockdown non sblocca non riusciva a sbloccare bene tutto ciò che aveva bloccato prima e quindi il computer rimaneva in quello stato lì soluzioni non lo so alcuni dicevano ma tu spegni a forza il computer e poi lo riaccendi disinstalli lockdown e dovrebbe andare a posto esatto questo è una porcata allora se potete se avete spazio su disco ok io quello che vi consiglio di fare per i docenti che vi fanno usare questa cosa qua è di installare un'altra coppia di Windows in una partizione separata del disco ok in cui installate solamente il browser il lockdown quello che vi serve e quello diventa un'installazione parallela di Windows su una partizione separata quindi partizionate il disco lo installate reinstallate Windows a parte nell'altra partizione poi con quei software di dual boot fate l'avvio normale nella nostra partizione oppure in quella diciamo così inquinata da da Respondus è chiaro che è complicato bisogna avere spazio su disco bisogna avere tempo di farlo però il rischio di trovarsi il sistema operativo diciamo così parzialmente bloccato perché a Respondus l'ha rovinato adesso ci sono questi sistemi appunto come si suggerisce Umberto tipo appunto questo è il suo coppio questo che è scritto disinstallare e poi avrai un programma che vada a ripulire dopo che dopo che lui è installato questo e vedo che Umberto usa il condizionale nel senso che poi che funzioni sempre al 100% non è detto purtroppo una fortuna ecco quelli che dicono no ma farlo girare dentro una macchina virtuale non funziona perché le ultime versioni cercano anche di accorgersi se stanno girando dentro una macchina virtuale in quel caso rifiutarsi di partire questa devo dire è stata una scelta molto infelice di questo software molto allora mentre aspetto se arrivano altri dubbi permettetemi di fare il commit di questa ultima correzione il test lo avevo modificato assolutamente il numerino non ci interessa questo solamente il simulator ok continuava continuava era ancora allora questo messaggio mi dice che è troppo lungo facciamo così abbiamo a capo un corretto bug su conteggia ok ok sono le branch c'è ah beh c'è un branch solo qua vero a posto grazie per la segnalazione come sempre a posto ho rimesso questo con le date degli esami le varie cose così rimane ancora un po' nel video perché magari non so se sia qualcuno che si è collegato più tardi almeno abbiamo la possibilità di vederlo dopodiché se non ci sono altre richieste ovviamente martedì prossimo non ci vediamo perché è il 2 giugno e abbiamo tutti tanto bisogno di giorni di festa quindi la settimana prossima non ci sarà giusto è già la settimana prossima martedì 2 giugno non ci sarà la nostra solita chiacchierata settimanale se avete domande le potete fare tranquillamente cerchiamo di gestirle via telegram invece ci vediamo il 3 con la simulazione d'esame e poi ci sarà l'ultima video chat che sarà quella del 9 giugno che sarà a cavallo tra le due simulazioni d'esame quindi quello sarà anche il momento di poter riflettere insieme su come sia andata la simulazione come si possano identificare problemi migliorarli risolverli in vista della seconda simulazione soprattutto degli esami veri e propri ok allora domanda finale di finale o no dipende l'ultima che è arrivata che mi chiede come gestione dei temi esami per la tecnologia di capo 11 è sufficiente copiare le classi in un modo sì io ho fatto quel lavoro lì estremamente noioso creato un progetto da zero in modo più pulito ho creato un progetto da zero ci ho copiato dentro i package model e db perché quelli non hanno bisogno di modificare ho modificato la classe entry point andando e normalmente nel termine vecchi il controller si chiamava che ne so artsmia controller oppure con un nome specifico mentre invece nei progetti creati da Maven si chiama sempre fxml controller quindi ho anche lì copiato la classe controller nel progetto nuovo quindi si copiano le classi vecchie e si corregge a mano l'entry point perché lì chiaramente bisogna creare il controllo economico giusto eccetera basta prendere dal progetto vecchio mettere a posto il path perché gli anni precedenti l'fxml lo mettevamo nella stessa cartella in cui c'era la classe e quindi era load dell'fxml loader era load del nome della classe mette adesso slash fxml slash nome però sono cose minime a questo punto una volta fatto in batteria era relativamente semplice quindi creo il progetto nuovo copio dentro il package model e db che normalmente non hanno bisogno di modifiche copio il controller copio l'fxml dal progetto vecchio e a mano vado a modificare l'entry point se qualcuno di voi lo fa mi manda i link io ben volentieri me li forco dentro i repository del corso e così tutti ne possono beneficiare bisogna ricordarsi copiarsi dentro anche le informazioni accessoriche su una cartella con dentro il database e il pdf del testo ma semplicemente basta copiare alla fine il codice è lo stesso dal livello di linguaggio da Java 8 a Java 11 non è cambiato per quanto serve a noi ciò che è cambiato sono le modalità di richiamo delle librerie dei moduli eccetera questo è ciò che è nascosto nella creazione del progetto tramite Maven mette a posto tutti i parts le librerie eccetera e questo da fare a mano è complicato ma il resto una volta che il progetto è creato è sempre Java quindi basta copiare class nei progetti vecchi i codici dell'entry point era dentro la classe main invece qua per un bacco di Java 11 abbiamo dovuto separare main da entry point insomma le uniche vere differenze va bene ci sono altre domande ci salutiamo ci salutiamo direi allora domani c'è laboratorio ci sarà Alberto noi ci vediamo invece tutti insieme mercoledì prossimo 3 giugno per la simulazione d'esame alle 9.30 io spero in una partecipazione molto ampia sicuramente di tutti coloro che vogliono dare l'esame in questa sessione primo o secondo appello perché l'unico modo che abbiamo per poter arrivare un pochino più tranquilli alla prova d'esame sapendo che tutto funzionerà io vorrei evitare di avere persone che arrivano il giorno dell'esame ah questo non lo sapevo questo non l'ho provato questo non so se funziona perché poi non venite a davantiare con me nel senso che se non ci avete pensato per tempo è ovvio che all'ultimo momento gli imprevisti ci possono essere ok va bene allora vi ringrazio grazie per la compagnia anche quest'oggi alla settimana prossima buon appetito grazie a tutti